Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi ho deciso di parlarvi di alcuni prodotti a basso costo che mi stanno piacendo tantissimo. Alcuni prodotti li compro e li ricompro, altri sono entrati da poco all'interno dei miei preferiti, in realtà all'interno dei miei mai più senza. Prima di iniziare col video, fatemi sapere se questa nuova location vi piace, perché cercavo un posticino abbastanza neutro, ma che fosse anche esteticamente, non dico bello, perché il bello è quasi sempre soggettivo, ma che sia abbastanza neutro e soprattutto renda facile la visione per tutto quanto il tempo che dura il video. Quindi, essendo questo colore molto neutro, spero che possa essere un colore rilassante, ecco uno sfondo rilassante, fatemelo sapere giù tra i commenti. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimade.insud, ve lo lascio qui. E adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi faccio vedere questi prodotti. Peraltro, mentre li stavo prendendo dai vari cestini che ho in bagno, mi sono resa conto che sono tutti prodotti al di sotto dei 5 euro. Quindi, prodotti al di sotto dei 5 euro o entro i 5 euro che mi stanno piacendo tantissimo e mi sento di consigliare. Partiamo con un prodotto struccante. Allora, sono delle salviette struccanti viso, occhi e labbra con carbone vegetale del marchio Kineans. Queste qui, scusate se vedete il riflesso, ma ho acceso la ring light perché ho la finestra da questo lato e se non avessi acceso la ring light praticamente ci sarebbe stato chiaro, scuro. Invece con la ring light riesco a bilanciare la luce. Comunque, nel caso vi metto qui in alto le fotografie, lo ricorderò questa volta. Sono delle salviette che hanno come scopo tre risultati, ossia quello di detergere, struccare e detossificare. Sul detossificare, lasciamo perdere, tessuto a nido d'ape ed è vero, ha un tessuto a nido d'ape molto molto resistente ed è un make up remover, quindi una salvetta struccante adatta per struccare il viso, gli occhi ed anche le labbra. Questo ve lo specifico perché a volte in commercio si trovano degli struccanti che sono specifici per gli occhi o specifici per esempio solo ed esclusivamente per il viso. Questo invece riesce a struccare sia il viso che gli occhi che la bocca. Peraltro lo fa in modo delicato ma totale, quindi riesce veramente ad eliminare qualsiasi traccia di trucco sia presente sul viso, esempio il mascara perché è uno di quei prodotti che tende ad essere abbastanza insistente, abbastanza resistente sulle cia, quindi se non si insiste tantissimo o meglio se non si massaggia il prodotto struccante, vi invia dopo tanto tempo. Invece queste salviette devo dire che fungono egregiamente, fungono egregiamente ma vabbè lasciamo perdere, insomma fungono la loro funzione di fung... sono dei fungitielli! A parte gli scherzi sono molto buone, peraltro ho apprezzato moltissimo l'apertura in plastica molto molto resistente, quindi non avete l'inconveniente di ritrovarvi dopo qualche giorno dall'apertura le salviette completamente asciutte, non succede assolutamente. In più, un altro plus di queste salviette è che nel momento in cui andate a prelevare una salvietta ne prelevate una e non tutta la linea continua di salviette, perché è una cosa personalmente, fatemi sapere anche voi, che non sopporto, perché se ho bisogno di una salvietta tiro fuori una salvietta, se ho bisogno di due o tre salviette ne tiro, ok? Ne prelevo due o tre. Invece molto spesso capita, ma anche per le classiche salviette umidificate, per i bambini oppure quelle igienizzanti e via discorrendo, ci sono tanti marchi che praticamente mi fa venire il nervoso. Ne tirate, volete, volete, avete il desiderio di far fuoriuscire una sola salvietta, ma invece esce praticamente tutto il pacchetto. Non succede con queste salviette. Io queste salviette le ho prese un bel po' di tempo fa, in realtà avevo preso diversi pacchetti da Lidl. Date un'occhiata da Lidl, perché ciclicamente le trovate, peraltro ad un prezzo ottimo. Presi anche l'altra versione, che se non erro è la versione classica, ma la versione classica mi ha procurato irritazione. Quando passavo la salvietta, io comunque dopo successivamente detergo sempre, sempre il viso, ma appena passavo quelle salviette, la tipologia è quella celeste. Se dovessi ritrovare la tipologia di salviette, ve la metto qui. Scusate, mi sono distratta perché Charlie sta combinando un manicomio. Appena la passavo, avevo la pelle che bruciava. Infatti le ho utilizzate poi per rimuovere il trucco, che so, dalle mani, oppure per pulire velocemente il pennello, per poi lavarli. Che so, li utilizzavo al mattino, li pulivo in velocità con la salvietta e poi li lavavo alla sera o al pomeriggio. E quindi ho cercato di utilizzarle e riutilizzarle in questo modo, ma non le ho più utilizzate per struccare il viso perché bruciavano tantissimo. Pensavo che queste al carbone, essendo detox, fossero più aggressive. In realtà, tutt'altro. Quelle apparentemente più delicate, che dovevano essere delicate, si sono dimostrate parecchio aggressive sul mio tipo di pelle. invece queste le ho apprezzate tantissimo. Vediamo se riesco a... sono made in Italy. Vediamo se riesco a mettervi la lista ingredienti, perché magari qualche persona può non tollerare qualche ingrediente presente all'interno. Vediamo. Questi sono gli ingredienti. E, già che mi trovo, vi faccio vedere da vicino le salviette. Sono queste qui. Per quanto riguarda la profumazione, è molto delicata, sa di pulito. E non è una profumazione dolce. Anzi, mi ricorda tantissimo gli agrumi, soprattutto l'acidità del limone. Insomma, se le trovate, date uno sguardo a queste salviette, perché a me piacciono e sono piaciute tantissimo. Una specifica, io non utilizzo fondotinta mai sul viso. Utilizzo, come in questo caso, semplicemente il blush ed il correttore. Inoltre, non utilizzo nessun prodotto waterproof. Quindi, in quel caso, su quei determinati prodotti non so come possano risultare. Ma, per tutto il resto, io mi ci trovo benissimo. Viva, viva il low cost. Il secondo prodotto che rientra nei miei mai più senza low cost è un prodotto Astra. Sono tutti prodotti acquistati da me. Lo sottolineo. E' uno della linea Pure Beauty ed è il Juice Lip Oil. Appartiene alla linea dei prodotti a base di ingredienti naturali. Al 90% di ingredienti naturali. Questo è il Lip Oil. Guardate quanto ne ho utilizzato. E' qui. Forse devo girare il boccetto. Guardate. E' qui. Il livello è proprio qui. Lo utilizzo sempre. Lo utilizzo al mattino. Quindi rientra nella mia skin care routine. Sia del giorno che, per quanto riguarda la sera. Quindi prima di andare a letto. Dopo che ho lavato anche i denti, applico questo prodotto. Lo utilizzo sempre prima di truccarmi. O meglio. Lo vado ad applicare e poi mi trucco. E' un prodotto eccezionale. Peraltro apprezzo moltissimo il pennellino. Come potete notare. Guardate. E' un bel pennellozzo. Pennellozzo. Come dice Lucy. E' riuscita ad applicare il prodotto agevolmente sulle labbra. Sia sul labbro inferiore che sul labbro superiore. Per quanto riguarda la sera. Tendo ad applicare il prodotto leggermente al di fuori dei bordi delle labbra. Perché va ad idratare proprio le labbra. Ma anche il suo contorno. Se dovessi trovare la lista ingredienti. Ve la metto qui. Perché sul flaconcino non è riportato. Ed è un prodotto che va a mixare due tipologie di altrettanti prodotti. Ossia il balsamo labbra con un gloss. Avete veramente questo duplice effetto sulle labbra. Quindi avete queste labbra idratate, ammorbidite. Hanno proprio questo effetto juice. Ma allo stesso tempo è anche un bell'effetto. Soprattutto per chi ama i gloss. Quindi se al mattino ad esempio andate di fretta. Ho un po' di blush, un po' di mascara. Magari ritoccate le sopracciglia. Applicate questo prodotto. E avete un aspetto fresco, luminoso. È velocissimo da applicare e dà un bellissimo effetto alle labbra. Perché avete queste labbra rimpolpate. Inoltre è un prodotto molto confortevole. Non si appiccica tra le labbra. Non fa filamenti strani, pappette che mamma mia, orribili. E non sbava. È un prodotto eccezionale. Costa pochissimo. Ed è uno dei migliori prodotti che io abbia mai utilizzato. Peraltro c'è il fratello. O meglio, c'è il fratello maggiore. In casa Dior che io ho provato e straprovato. Sono molto buoni. Però quei prodotti, quei oli barra gloss labbra di Dior, sono belli. Ma per quanto mi riguarda non valgono assolutamente il prezzo che hanno. Questo invece costa un quarto se non di più. E fa egregiamente il suo lavoro. Non c'è bisogno di spendere 40 euro per un lip oil effetto gloss sulle labbra. Perché questo di Astra è veramente eccezionale. Quindi lo dico assolutamente con cognizione di causa. Peraltro lo dico, visto che a volte ho letto dei commenti a ragazze che hanno detto la stessa cosa che sto dicendo io. Ossia meglio questo di Astra che quello di Orr. Sì ma quelli curano no. Assolutamente. Sono prodotti cosmetici. Per curare dovete andare a prendere i farmaci. Quindi si va in farmacia e si prendono dei prodotti curativi. Ma se acquistate questo prodotto Astra o se acquistate il Dior, il prodotto Dior, non cambia assolutamente niente. Qualcuno dirà sì ma la lista ingredienti e via discorrendo. Io ho provato entrambi. Quindi in tasca non mi viene nulla. Se premio questo di Astra o quello Dior, assolutamente niente. Anzi dovrei elogiare quello Dior visto che costa oltre i 40 euro se non erro o al di sotto dei 40 euro ma siamo proprio a filo. Dovrei elogiarlo. In realtà non sto dicendo che quello è un brutto prodotto o non fa il suo lavoro ma non noto la differenza tra questo Astra e quello Dior. Poi uno quello che vuole comprare compra ma su certe cose secondo me le persone si soffermano troppo sul marchio perché c'è scritto Dior sul boccettino. Noi invece dovremmo essere di mente aperta e sfruttare la nostra intelligenza visto che la nostra grande maggioranza di persone sono intelligenti. Quindi sfruttiamo la nostra intelligenza, non ci fossilizziamo sul marchio ma utilizziamo il prodotto senza concetti e preconcetti soprattutto senza i vari stereotipi. Questo prodotto Astra ve lo faccio vedere meglio, è eccezionale, veramente un prodotto eccezionale, ve lo straconsiglio. Torniamo a parlare di struccanti, questa volta vi parlo di L'Oreal, è un latte detergente struccante, forse già ve ne ho parlato di questo prodotto, non mi ricordo. Ma siccome è una costante, è diventata una vera e propria costante, io ve ne riparlo. Non mi ricordo se già appunto ho parlato di questo prodotto ma ne riparlo. Anzi, credo che ecco sia da apprezzare proprio perché vi fa capire quanto questo prodotto effettivamente mi piace. Latte fioritari deterge strucca e nutre. Sul nutre va bene, ci siamo capiti. All'interno trovate rosa e gelsomino lenitivo ed è specifico per pelli secche e sensibili. È un formato maxi da 400 ml, testato sotto controllo dermatologico. Questo è il prodotto, vediamo se metti a fuoco. Ok, questo è il prodotto. Peraltro io ho comprato in passato anche il tonico, mi è piaciuto moltissimo, ma se lo dovessi ricomprare lo ricomprerei, ma tra i due, cioè tra il latte struccante e il tonico, preferisco di gran lunga il latte detergente. Qui vi metto gli ingredienti, comunque mi sa che già ve ne ho parlato e credo anche da poco. Vabbè, ma questo è un canale di verità, pesce fritte e baccalà e quindi sono a fuoco, ok. Un'efficacia testata, consiglio di utilizzo mattina e sera applicate sul viso e collo, la sua texture fondente con l'aiuto di un dischetto di cotone. Allora, io non lo utilizzo con il dischetto di cotone, ma lo utilizzo in questo modo. Ma lavo prima le mani, quindi mi accerto che le mani siano ben pulite. Dopodiché vado a, come potete notare al dispenser, quindi è semplicissimo da utilizzare. Vado a derogare una o due pompette di prodotto, dopodiché lo massaggio, lo faccio, tra virgolette, riscaldare sulle mani e poi vado a massaggiarlo su tutto il viso, come se fosse un vero e proprio sapone. È come se stessi andando a detergere il viso con, che so, un detergente in gel o un classico sapone. Massaggio molto molto bene, mi concentro ai lati del naso, sugli occhi, ciglia, labbra, le sopracciglia. Insomma, vado molto molto bene. Peraltro, quando eseguo la seconda passata, perché di solito ne faccio due, vado a lavare anche il collo. Anche se comunque io non applico prodotti sul collo, perché, ripeto, non utilizzando fondotinta. Però magari può andare qualche residuo di ombretto, oppure qualche impurità, oppure, che so, quando utilizzo il pennello o il piumino con la cipria. Insomma, per detergere molto bene vado a mettere un po' di prodotto anche sul collo, quando eseguo la seconda passata. Per quanto riguarda la seconda passata, utilizzo veramente pochissimo prodotto, perché già con il primo massaggio per rimuovere il trucco, vi invia tutto. Cosa faccio? Anziché sciacquare il viso sotto l'acqua corrente, perché è come se non riuscissi a prelevare, ad asportare completamente il prodotto con il solo utilizzo delle mani. Quindi prendo un panno struccante. Io mi trovo benissimo con due panni struccanti, ve lo specifico perché spesso me lo chiedete. Con i panni Human and Kind, io li trovo sul sito di Ecco Verde, ve li metto qui. Sono meravigliosi. Una coccola per la pelle, soprattutto se avete la pelle molto delicata. E con i panni struccanti di seta blu. Costano pochissimo e sono spettacolari, perché estremamente, estremamente morbidi. Inoltre, hanno il tessuto in rilievo, hanno proprio il pelo del tessuto in rilievo. Quindi nel momento in cui voi lo andate a massaggiare sul viso, che sia per asportare questo o un altro struccante, o semplicemente con acqua calda, non andate a irritare le zone del viso. Soprattutto la zona oculare e perioculare, che è estremamente delicata. Utilizzo questo panno struccante, il trucco viene via in due secondi. Cioè, mi strucco in super super velocità. Dopodiché passo al passaggio successivo utilizzando un detergente per il viso, molto delicato. Peraltro sto utilizzando quello di saponaria, del marchio La Saponaria, che è estremamente delicato. È una mousse. Credo di averlo già mostrato in qualche video. E ho la pelle completamente detersa. Successivamente, prima di applicare le varie creme serie e via discorrendo, non sento assolutamente la pelle tirare. Nel mio caso non ho neanche difficoltà con gli occhi, perché a volte alcuni struccanti o, in questo caso, alcuni prodotti, in questo caso latte e detergente, possono entrare all'interno dell'occhio, possono dare fastidio. A me questo non lo fa. Ma vi consiglio di tenere comunque, inevitabilmente, gli occhi ben sigillati. Non aprite gli occhi mentre state massaggiando. Quindi, apparentemente, potrebbe essere uno struccaggio più lungo rispetto alle salviette, ma ci vuole più tempo nello spiegare che nel farlo. Magari qualche volta faccio, registro un video proprio sullo struccaggio. È un prodotto meraviglioso. Non so se riuscite a percepire, ma sono arrivata qui. Questo è il terzo flacone che ho acquistato nell'arco degli ultimi mesi. È uno stra-stra-consigliato. L'ultimo prodotto che vi stra-consiglio e che rientra, non solo nei miei preferiti, ma più senza, ma rientra anche nei preferiti di Giulio, perché è un prodotto che nasce per i bambini, ma anche noi adulti, soprattutto se abbiamo la pelle estremamente, estremamente delicata, o anche il cuoio capelluto estremamente delicato, può fare al caso nostro. Allora, sto parlando dell'eco-ricarica. In realtà trovate anche il flacone classico, ma io per una questione di, come dire, di convenienza, ma anche per utilizzare meno plastica, utilizzo l'eco-ricarica, meno 75% di plastica, insieme per un'acqua e smesi più naturale e sostenibile. Infatti trovate anche la certificazione del WWF. È del marchio I Provenzali, ed è bagnetto biologico, corpo e capelli. Indicato per la detergenza fin dai primi giorni di vita, quindi è un prodotto che potete utilizzare anche per i neonati. Testato su pelli sensibili, delicato, zero lacrime. Ed è assolutamente vero. In diversi video ve l'ho detto. Ogni volta che ho acquisto un prodotto nuovo con la specifica zero lacrime, lo provo prima su di me e poi lo provo su Giulio, perché voglio essere proprio sicura che sia effettivamente zero lacrime. Con questo non significa che quando mettete il bimbo sotto la doccia c'è scritto zero lacrime e gli fate colare o non prestate attenzione agli occhietti. No, ma se inavvertitamente dovesse andare, perché poi si sa come sono i bimbi, no? Giocano, si insaponano anche loro, insomma succede, anche con i bambini molto più piccoli. Inavvertitamente se dovesse andare una piccola parte di prodotto, almeno sappiamo che è un prodotto estremamente sensibile, delicato, e quindi non va a bruciare tantissimo gli occhietti dei nostri cuccioli, è un cosmetico biologico, trovate la certificazione e trovate anche la certificazione di cosmetico sostenibile, che poi sul cosmetico non lo so. Vabbè, lasciamo perdere. La confezione è da 750 ml, ha un pao di sei mesi, consigli utili per la mamma, nei primi mesi il momento del bagnetto diventa un piccolo rito di preparazione prima della nanna. Il momento migliore pertanto è la sera, l'acqua deve essere tiepida, non superiore ai 36-37 gradi, e l'ambiente è ben riscaldato, sui 24-25 gradi. Qui vi mostro la lista ingredienti, scusate per il riflesso, vediamo se è così... Ok. Ok, sono a fuoco, ed è un prodotto eccezionale, veramente un prodotto eccezionale. La confezione classica è da 250 ml, infatti qui dice 75% di plastica e meno rispetto a flaconi, rispetto a tre flaconi da 250 ml di bagnetto biologico, corpo e capelli. Quindi abbiamo meno spreco, perché permette uno svuotamento totale del suo contenuto, meno CO2, il materiale proveniente da fonte rinnovabile, più del 30% del materiale di origine vegetale, meno volume a casa. Infatti l'eco-ricarica ha un ingombro minore rispetto al flacone pari, formato quando diventa un rifiuto. Pensato specificatamente per la pelle del bambino, ottimo anche per adulti con pelle sensibile, quello che vi ho detto io. Arricchito con acqua di malva ed estratti di camomilla ed avena, regala una pelle morbida e capelli facili da pettinare. Formulato con ingredienti delicati e dermatologicamente testato su pelle sensibile. Si sciacqua velocemente senza bruciare gli occhi. Modo d'uso, diluire direttamente nella vaschetta circa un cucchiaio, oppure versare nella mano una piccola quantità di prodotto. Quando lavo Giulio, Giulio ormai è grandicello, quindi non fa più il bagno nel bagnetto, direttamente nella vasca, quindi prende la sua spugna, mette parte del prodotto sulla spugna e si lava. Per quanto riguarda il cuoio cavelluto, si mette una piccola noce di prodotto nella mano, io gli faccio mettere la mano a conchetta, e poi si va a detergere i capelli, si bagnano e poi si massaggia. Ovviamente lo stesso procedimento vale anche per noi adulti. Invece se lo volete utilizzare nella vaschetta, qui appunto vi consiglio di diluire circa un cucchiaio, anche se non è specificata la quantità d'acqua, ma diciamo su tre litri d'acqua, più o meno un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo, oppure versare sulla mano una piccola quantità di prodotto e applicare delicatamente su corpo, capelli e cuoio capelluto del bambino, risciacquare accuratamente con acqua tipida. Quindi abbiamo il 99,7% di ingredienti naturali o di origine naturale, il 100% degli ingredienti certificati è biologico, infatti trovate le varie certificazioni. Mi raccomando, fate attenzione quando trovate delle specifiche, controllate che ci siano effettivamente le certificazioni, anche se comunque oggigiorno nullo è certo al mille per mille. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa poetica, ma anche realista. Realista, realistica, vabbè, lasciamo perdere oggettiva e ci togliamo il pensiero. È un ottimo, ottimo prodotto. Ha una profumazione estremamente delicata. Appena voi lo annusate, sentite il profumo di avena. Ma un'avena smorzata dalla camomilla e anche dalla malva, soprattutto dalla malva, è un prodotto meraviglioso. Anche successivamente al lavaggio, anche se non utilizzate la crema, per esempio per il corpo, non sentite la pelle tirare, non dà fastidio. È un ottimo prodotto. Peraltro è un prodotto adatto veramente a tutta la famiglia. Quindi, se acquistate questo, si può lavare dal bambino neonato alla persona anziana. Per esempio, ci sono tante persone anziane che, avendo la pelle estremamente sensibile, estremamente delicata, a volte hanno difficoltà a trovare dei buoni prodotti per detergere la pelle del corpo o anche il cuoio capelluto. È un ottimo prodotto. Quindi è un prodotto passepartout perché va bene per tutta la famiglia, dal neonato fino alla persona anziana. Devo dire che io lo amo tantissimo anche per detergere i capelli perché deterge molto bene, resta delicato, ma allo stesso tempo va a rimuovere tutto il sebo presente sul cuoio capelluto. I capelli successivamente sono morbidi anche se comunque io utilizzo successivamente sempre il balsamo. Giulio no. Però io successivamente utilizzo il balsamo. Ma quando l'ho utilizzato senza addizionare il balsamo comunque ho... il risultato è di capelli estremamente morbidi e anche profumati. Mi piace tantissimo. È un ottimo, ottimo prodotto. Ora non ricordo se... No, questo costa 4,99 euro. Quindi proprio siamo all'interno di 5 euro. Ed è un prodotto favoloso, eccezionale. Ed è molto buono anche durante il periodo estivo. Quando si va a mare, che la pelle è particolarmente, come dire, soggetta al calore, al calore, all'umidità, al sole, anziché utilizzare i... doccia schiuma, bagno schiuma, post sole, esposizione al sole, io utilizzo questo perché appunto è estremamente, estremamente delicato. Quindi mi va a detergere la pelle, ma non va a... come dire, ad irritarla visto il suo subire i raggi del sole. Non so se mi sono spiegata bene. Comunque, sono innamorata follemente di questo prodotto. 4,99 euro per 750 ml ci fate veramente tantissimo tempo. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se avete provato già questi prodotti e se volete consigliare qualche prodotto a me o alla nostra community, al di sotto dei 5 euro, lasciate pure un messaggio. Sono felice e contenta di andare a leggere i vostri suggerimenti perché io prendo sempre spunto, ma sicuramente tra di voi riuscirete a trovare un ulteriore spunto. Spero, come detto prima, di avervi tenuto soprattutto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimade.insud e come sempre un bacio, un abbraccio e un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.